Allora, in questa lezione noi spieghiamo contannulli e contavalori. Cosa sono? Se noi in questa casella, per esempio, andiamo a mettere dei numeri, 1, 2, adesso ci mettiamo qui un ciao, quindi non è un numero, qua mettiamo 60. Contannumeri, che cosa fa? E poi lo lasciamo vuoto, nullo, senza niente. Cosa fa il contannumeri? Il contannumeri va a vedere in questa colonna tutte le celle che hanno un numero e ti dice, per esempio, in questa colonna ci sono 1, 2, 3 numeri. Quindi, come si utilizza? Vado a mettere sempre l'uguale, conta, punto, numeri, apri, vado a sottolineare tutto quanto per vedere che cosa succede. mi dice 3, perché in solo lui trova il riferimento di numeri solo in tre celle. Quindi qua, 1, 2 e 3. Questa non è un numero e quindi non lo conta, e questa è vuota e quindi non lo conta nemmeno. Contavalori, si utilizza lo stesso modo, però questa volta lui va a contare tutto ciò che vede, dove vede qualcosa di scritto, che sia numero oppure che sia una scritta. Quindi questa volta qua vede che c'è scritto un numero e lo conta, qua vede che c'è un numero e lo conta, qua vede che c'è una scritta o una lettera o qualunque altra cosa, e lo conta, e qua vede che c'è un altro numero e lo conta. Questo vede che è vuoto e non lo conterà. Quindi quando andrò a mettere il contavalori, quindi la formula contavalori, lui mi andrà a trovare 1, 2, 3 e 4. Quindi andrò a mettere uguale, conta, punto, valori, apri parentesi tonda, vado a fare sempre 1, 2, 3, 4 e 5, giù di parentesi. Adesso mi dice che i valori che trova sono solo 4, perché sono 1, 2, 3 e 4. a te 5, 6, 6 e 6, 7 e 6, 7 e 6, 8 e 6, 8 e 6. Grazie.